Ieri ho sottolineato che dopo aver fatto un breve momento di silenzio quando inizio a pregare e dopo aver fatto il signo di croce è opportuno invocare lo Spirito Santo perché come diciamo nel credo lo Spirito Santo è il Signore dalla vita per cui ci connette con la vita di Dio con la vita trinitaria e non solo perché ci accompagna nella preghiera è un po' come il vento che soffia nelle vele che conduce la barca che conduce la barca della nostra preghiera ed è anche l'energia di Dio ci dona la forza necessaria per affrontare ciò che ci tocca vivere ma come rivolgerci allo Spirito Santo? Beh vi sono diverse invocazioni potete andare su internet ne trovate un'infinità ognuno scelga quella che preferisce ve ne propongo tre di diversa lunghezza la prima è quella più breve in assoluto facilissima da memorizzare vieni Spirito Santo è proprio chiedere chiedere che ci connetti con la vita trinitaria con Dio e chiedere proprio l'energia invocarlo con questa preghiera molto breve per dire sostienimi quello che sto facendo sto pregando sto lavorando sto studiando eccetera la seconda è questa vieni Spirito Santo riempi il cuore dei tuoi fedeli accendi in essi il fuoco del tuo divino amore manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra parole con le quali si chiede allo Spirito di accenderci di far sì che la preghiera serva a ispirare e rinnovare la nostra vita il nostro modo di pensare di agire terza invocazione è la sequenza di Pentecoste molto bella più lunga ed evoca molto bene ciò che lo Spirito Santo suscita in noi quando lo invochiamo è bello iniziare la preghiera proprio con questa invocazione ve la scrivete da qualche parte poi col tempo vi entrerà sicuramente nella memoria ve la leggo vieni Santo Spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo soglievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna ecco questa preghiera evoca tutto ciò che lo Spirito Santo può fare in noi ogni volta che lo invochiamo ogni volta che iniziamo la preghiera lo Spirito Santo dunque va invocato subito dopo il segno di croce per lasciarci guidare e condurre da lui nella preghiera e per chiedergli quell'energia necessaria che ci serve per affrontare la giornata in tutta la sua complessità e proprio per questa ragione lo si può invocare tutte le volte che vogliamo anche prima non so di metterci in viaggio prima di fare un lavoro prima di studiare prima di un compito in classe naturalmente è necessario aver studiato però non so anche prima di un compito in classe invocarlo ma non perché lo Spirito Santo ci suggererà la risposta giusta ma per chiedere allo Spirito di aiutarci a usare bene tutte le energie le conoscenze le risorse che abbiamo lo si può invocare prima di un dialogo con qualcuno non perché magicamente ci risolva i problemi o ce li eviti ma perché ci dia la forza necessaria per affrontare quello che dobbiamo affrontare ogni volta che viviamo qualcosa di impegnativo di importante in quell'istante possiamo invocare lo Spirito Santo anche quando abbiamo bisogno di trovare una buona idea quando si tratta di lavorare in gruppo quando si tratta di trovare una soluzione creativa ad un problema per affidare una situazione ingarbugliato che sembra senza via d'uscita lo Spirito Santo è davvero l'energia di Dio la vita di Dio da invocare per avere le forze giuste per pregare per quello che va invocato sempre all'inizio della preghiera per relazionarci con Dio e allo stesso tempo per ottenere quell'energia necessaria per poi amare gli altri nel concreto della nostra esistenza buona giornata a tutti